Il raggio che le donne di Borgo Mezzanone vogliono mandare al governo è che da sei giorni non c'è corrente. Non si può dormire così, con questo freddo. Non si può neanche uscire, magari dormire senza corrente sei giorni. Immaginatevi, non si può vivere così come animali. Il governo deve fare qualcosa, è subito, perché la gente gela, manca poco, si può morire.